Grazie di essere qui. Inaugurazione oggi del punto prelievi qua a Dozzegna, un passo importante per il Paese. Sì, è un servizio fondamentale e importante per il nostro comune e per i nostri cittadini, che dopo un po' di tempo siamo riusciti ad ottenere una convenzione con l'ASL 8.4, che li ringrazio per averci dato questa opportunità, questo supporto, dove il comune di Dozzegna si occupa di farsi carico del costo dell'operatore, mentre l'ASL mette a disposizione tutti quelli che sono gli accessori utili che servono per i prelievi del sangue, come siringhe, provette, eccetera. Quindi ritengo fondamentale questo servizio, soprattutto perché il nostro Paese, tra l'altro è un Paese di tanti anziani, persone che hanno necessità e che ogni volta devono appoggiarsi ad un loro parente, a qualcuno, che li porta a fare i prelievi ai comuni limitrofi. Quindi un servizio molto interessante per il nostro comune. È stato fatto in forma di sperimentazione per un anno e che sicuramente proseguirà per il futuro. Come funzionerà il centro prelievi di Dozzegna? Il centro prelievi funzionerà che ci sarà appunto il servizio il martedì mattina. Bisognerà accedere prenotando il servizio, inviando l'impegnativa tramite mail all'indirizzo dedicato, oppure lasciando direttamente l'impegnativa fisica presso il dispensario farmaceutico qui di Dozzegna, segnalando bene i contatti e la modalità di ritiro referti. Dopodiché verranno ricontattate le persone da mail in persona, descrivendo anche eventualmente se ci sono degli esami particolari da dover effettuare. Dopodiché si darà appunto l'appuntamento. Il martedì mattina si farà il prelievo presso l'ambulatorio qui del comune. Poi ci sarà il ritiro dei referti secondo la modalità indicata. Sarà molto semplice in realtà e sicuramente aiuterà molte persone, non solo le persone fragili, ma anche chi lavora, chi ha necessità particolari. È una bella iniziativa del comune di Dozzegna. Dozzegna pensa alle persone anziane, comunque alle persone in difficoltà. Difatti oggi è una doppia inaugurazione, anche quella di uno sportello in aiuto a queste persone. Sì, abbiamo anche stipulato una convenzione con la società operaia qui di Dozzegna, dove sempre in questa giornata verrà inaugurato lo sportello solidale, dove anche loro, e li ringrazio perché oggi chi si occupa di solidarietà è sempre meno, ma ce n'è sempre più bisogno. Quindi ci sarà questo sportello solidale presso la società operaia, dove presteranno servizio anche loro di aiuto alle famiglie, di infermieri, di persone che vanno a supporto a quelle che sono le necessità per le famiglie che ne hanno necessità. Inaugurata la società di mutuo soccorso, uno sportello solidale, utile ai cittadini. Certamente, era da un po' che volevamo farlo, però poi è stata un po' laboriosa la convenzione col comune, perché noi lo sportello come società di mutuo soccorso avremmo dovuto renderla fruibile solo ai soci. Invece la convenzione ANCI con la fondazione mutuo soccorso ha permesso di fare una convenzione col comune e rendere lo sportello agibile a tutta la popolazione. Pertanto è stata una bella cosa. Il nostro sportello al momento offre determinati servizi, che abbiamo concordato col comune, ricerca delle badanti, l'infermiere, uno studio dentistico che è associato, il CAF CISL di Rivarolo, che collaborava già col comune, verrà qui, in modo che evitiamo le persone di dover andare a Rivarolo o Castellamonte, le persone anziane, quelle che hanno bisogno di questi servizi, sono persone che o non hanno la macchina o non hanno la famiglia che lavora. Pertanto penso che è l'inizio, ma penso che faremo un buon servizio, porteremo tante cose utili al paese, le cose che comunque le assicurazioni non fanno, perché noi non lo facciamo per avere una resa, noi lo facciamo per tappare i buchi della sanità, dove non c'è niente da guadagnare ma solo dei servizi da fare. Quando si può accedere e come? Inizialmente noi abbiamo già il CAF CISL, che fa il primo martedì del mese e l'ultimo sabato del mese. Noi apriremo il giovedì pomeriggio dalle 2 alle 4, inizialmente una volta alla settimana, poi quando si prenderà piede, che ci sarà più, avremo degli altri orari di apertura, perciò segnaleremo di volta in volta quando il servizio avrà preso un po' di funzionalità e potremo dare delle risposte ai nostri soci e ai cittadini di Ozzegna.